Sono stati sequestrati computer e cellulari nel corso delle perquisizioni odierne nei confronti di 33 ultraromanisti e napoletani disposti dalla procura della Repubblica di Arezzo nell'ambito del procedimento penale che riguarda gli scontri tra opposte e tifoserie avvenuti nell'area di servizio di Badia al Pino lo scorso 8 gennaio. Impegnati nelle perquisizioni i poliziotti a Roma, Napoli e Arezzo il provvedimento costituisce l'epilogo di alcune evidenze investigative emerse nell'ambito dell'attività di indagine condotta dai poliziotti della Digos per acquisire ulteriori elementi di prova per definire le condotte di responsabilità dei soggetti coinvolti nei fatti.